Dal Vangelo secondo Marco In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli, Passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con Lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava poppa sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono, e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento, e disse al mare, Taci, calmati. Il vento cessò, e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, Perché avete paura? Non avete ancora fede? L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo alti sufficienti, da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore, come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio, Volgere il bene tutto quello che ci capita, Anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste. Perché con Dio la vita non muore mai. Grazie. 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 Grazie a tutti.